buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi andiamo a risolvere insieme questo esercizio che mi è stato chiesto da francesco per suo figlio e vediamo cosa posso fare per aiutarli ci vediamo tra un attimo allora premetto che ovviamente essendoci tre rami in parallelo l'ideale sarebbe risolverlo con milman però è stato esplicitamente chiesto con te veni facciamo con quello allora per prima cosa andiamo a segnare tutte le correnti quindi correnti che escono dal più del generatore in ogni ramo quindi andremo a fare io le segno in rosso come sempre quindi andremo a mettere i1 chiamiamo questa così i2 così e i3 nell'altro verso perché il più è dall'altra parte quindi abbiamo detto che chiamiamo i1 e saranno poi le nostre incognite i2 e i3 dopodiché andiamo a mettere le tensioni sugli utilizzatori in verso opposto quindi qua avrò la vr1 qua avrò la vr2 qua avrò la vr3 mentre ovviamente da meno a più la e1 sarà presa in questo modo la e2 sarà presa in questo modo e la e3 sarà presa in questo modo questo per aiutarci a fare il giro di maglia poi vab ovviamente sarà una freccia andiamo di farla questo ok quindi la nostra vab sarà una tensione con la freccia su a detto questo per applicare te veni allora possiamo fare un po in diversi modi non è che ci sia un modo solo dobbiamo comunque tagliare via un ramo quindi andiamo in questo caso a tagliare completamente via il terzo ramo quindi togliamo tutta questa parte ci concentriamo solo su questa te veni ci dice che di considerando andando a staccare il nostro carico noi possiamo fare un circuito equivalente a questo a quel che rimane quindi noi possiamo fare tutto un circuito equivalente di tutto questo blocco andando a calcolare che cosa la nostra tensione tra qua e qua a vuoto cioè senza il ramo che abbiamo tolto quindi la vab di questo ramo qui di questo circuito qui quindi chiameremo vab0 per distinguerla dall'altra bisogna però fare attenzione ad una cosa nel momento che io ho solo questo circuito qua succede qualcosa di particolare nel senso che a questo punto questa corrente non avrò più i1 e i2 avrò solo una corrente i quindi le cose saranno diverse da qua e in questo caso avrò una corrente che fa un giro così quindi sarà all'ingiù qua e quindi per contro cambia anche il verso della tensione e quindi anziché per così sarà per così la mia vr2 quindi vr2 vr2 ok in questo caso qua ovviamente fa questo giro perché il generatore e1 è più grande del generatore e2 e quindi e2 diventa un generatore passivo allora a questo punto la mia vab vab0 sarà uguale faccio il giro di maglia qua quindi faccio spero che si veda dove muovo il mouse quindi così se io faccio questo giro di maglia avrò che vab0 sarà uguale a e2 più vr2 come calcolo vr2 vr2 sarà uguale io faccio tutti i passaggi così spero sia più chiaro r2 ovviamente sarà uguale a r2 per i che a questo punto è solo i normale e i come calcolo i allora io qua ho una maglia sola quindi ho un circuito solo un circuito chiuso con una corrente quindi le due resistenze saranno in serie per calcolare la i dovrò fare la differenza dei due generatori tenuto conto che questo è più alto dell'altro quindi farò e la corrente ovviamente segue quello più alto farò 10 meno 7 quindi aspettate che scrivo e1 meno e2 perché come se facessi il giro di maglia solo dei generatori oppure metto i due generatori in serie e faccio un generatore equivalente pensate a come vi mette meglio r1 più r2 a questo punto vado a calcolare quindi qua mi rimane 10 meno 7 3 2 più 1 3 e quindi mi rimane 3 diviso 3 1 ampere vado a sostituire qua sopra vr2 sarà r2 1 per 1 quindi sarà 1 volt e quindi vado a sostituire ancora sopra per calcolare la VAB sarà 7 più 1 8 quindi sarà 8 volt e questa sarà la mia ETH VTH non so come preferite chiamarla la mia tensione del generatore di Tevenin poi prendo sempre questo circuito qua vado a sostituire ai generatori di tensione un filo cioè si dice vado come se li andassi a cortocircuitare quindi se io vado a fare quel discorso tenendo conto quindi la resistenza equivalente di Tevenin la faccio qua sotto questi non mi interessano così ok io vado a fare la mia qui costituisco come se ci fosse un filo e quindi mi rimane una cosa così vado a vedere la resistenza equivalente che vedrai tra A e B qua c'è sempre A e qua B quindi se io mi metto qua a vedere una resistenza vedrai il parallelo delle due e quindi la mia RTH sarà R1 parallelo R2 R1 parallelo R2 che si fa ovviamente R1 per R2 fratto R1 più R2 quindi si fa 2 per 1 2 diviso 3 quindi 2 terzi 2 terzi che fa circa 0,67 che poi viene 0,666 periodico quindi insomma approssimiamo circa 0,67 quindi io ho che tutta questa parte qua io posso andarla a sostituire equivale ad un generatore ad un circuito equivalente di Tevenin posso prendere un esempio prendiamo e adattiamo una cosa così allora ecco qua sono andata a fare la parte equivalente di Tevenin in modo da far capire che tutto questo blocco io l'ho reso equivalente a una cosa fatta in questo modo dove il mio valore TH è 8 e il mio valore di resistenza è 0,67 quindi qua ho 8 volt e qui 0,67 ohm a questo punto vado a riappiccicare quello che avevo tagliato quindi questa parte qua la vado a riprendere e riagganciare in questo modo quindi avrò il discorso del circuito equivalente che agli occhi della parte diciamo di qua sia da una parte che dall'altra nessuno si accorge della differenza quindi per chi sta di qua gli sembra che di là non sono cambiate le cose esattamente come per chi sta a monte sia che uno si identifichi in un generatore o nell'altro le cose non sono non sono cambiate ai loro occhi quindi qua l'i3 che andrò a calcolare sarà effettivamente l'i3 come nel primo nel primo disegno a questo punto procedo un po' come ho proceduto in questa parte qui quindi vado a calcolare prima di tutto la corrente a questo punto che posso calcolare l'i3 la posso calcolare immediatamente ricordiamo qua ho solo ovviamente una maglia e quindi un solo una sola corrente quindi questa qua è uguale a questa vado a calcolarla vado a fare il mio giro di maglia dei generatori oppure vado a sommare i due generatori che sono in serie hanno il più dalla stessa parte vedete che se vado a fare più e3 e più e2 e th andrò a fare e th più e3 e poi qua sempre la somma delle resistenze rth più r3 quindi vado a fare 8 8 più 7 e qua 067 più 1 067 più 1 allora questa mi viene circa 9 ampere quindi ok a questo punto una corrente l'abbiamo già ora possiamo andare a calcolare per andare a calcolare le altre possiamo andare a calcolare ad esempio quello che ci serve la tensione vab qua per poi averla sia in un ramo che nell'altro quindi ad esempio se voglio andare a calcolare qua la vab che è ben diversa da quella che avevo qui perché è un altro circuito quindi in questo caso qua avrò che la vab faccio ad esempio il giro di maglia qui quindi io la vab ce l'ho così quindi vab sarà uguale meno 7 quindi meno meno e3 più vr3 dove allora qui avrò meno 7 e qua avrò più r3 che è 1 quindi vr3 sarà r3 per i 3 e quindi sarà 1 per 9 9 quindi sarà meno 7 più 9 uguale a 2 volt a questo punto avendo vab posso spostarmi al primo al primo circuito e ad esempio calcolare o la i1 o la i2 come voglio poi l'altra ce l'ho ovviamente per differenza ad esempio per la i1 andrò a fare i1 posso calcolare come la differenza di potenziale che c'è cioè quindi la vr1 fratto r1 dove la vr1 sarà uguale e1 diciamo così vr1 fratto r1 e vr1 la vado a calcolare come e1 fra e1 meno vab quindi andrò così faccio e1 meno vab fratto r1 e quindi qua mi viene 10 meno 2 10 meno 2 fratto r2 che è r1 che è 2 quindi 8 diviso 2 mi dà 4 ampere la i2 o posso fare lo stesso ragionamento molto più velocemente vado a calcolarla siccome qua ne ho 4 qua ce ne devono arrivare 9 ovviamente posso fare per i2 il primo principio di Kirchhoff quindi ai nodo al nodo A e quindi ovviamente i2 sarà uguale i3 meno i1 e quindi sarà 9 meno 4 uguale a 5 ampere oppure appunto farla sempre con ragionamento vr2 fratto r2 bene con questo ho concluso spero di essermi spiegata bene e spero di essere stata d'aiuto per Francesco e per suo figlio fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo domani per un altro video